Faccio un colofono, bisogna sapere far tutto, l'uomo deve sapere far tutto, io posso far tutto, e so far tutto perché quando lo capisco è come faccio un caffè su una macchinetta, guarda che roba, guarda la mia bravura, guarda che, eh? Stolto! Aspetta, vedi? Che caccia fare il tour a maggio sarà durissimo perché canto anche due o tre serie di seguito, devo essere super in forno, ma non tanto fisicamente, proprio a livello di struttura, di fiato, eccetera, 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 il caffè andrebbe evitato, capito? Perché chi ne beve troppi, poi dopo una certa età, ragazzi, il caffè parlo degli uomini, eh eh! Bisogna evitare il caffè, infatti io bevo il caffè mentre parlo, mentre ne parlo male, mentre ne parlo male lo bevo, questo è il controsenso perché noi siamo fatti di controsensi, io mi gaso perché sono il primo dei controsensi. E' come cambia il mondo, la batteria, suona dell'impressione e suona della cassa, incredibile! Poi abbiamo fatto tante prove...